buonasera buonasera dottore buonasera dottor Toia un commento su stamattina adesso vado a facerlo le mie ore dopo ma nemmeno una parola sulla cassa qui mi riferisco all'organizzazione sindacale va bene come stai? si scaldano la mano cominciate pure date una sedia a Pietro che ci aiuta qua nella trattativa Baggins dove lo mettete? di là o di là? no Baggins va di là lui vuole fare la trattativa nel senso va bene non si vede in pace questo è fatto a poco che ci sono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.